Belen Rodriguez ha rivelato alcuni dettagli sulla sua vita privata, concentrandosi sul tema dell'amore, in un'intervista per il programma Le Iene, Inside, spin-off del famoso show di Italia 1. Durante l'intervista l'attenzione è stata naturalmente rivolta a Stefano De Martino, il padre del suo primogenito Santiago, con cui Belen Rodriguez è tornata dopo una breve parentesi con Antonino Spinalbese. La coppia, spesso al centro del gossip per i loro alti e bassi, sembra ora godere di un momento sereno insieme. Tuttavia, quando Nina Palmieri ha fatto alcune domande specifiche sul temperamento di Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha accennato ad alcune difficoltà che la coppia ha dovuto superare nella loro vita privata lontano dalle telecamere e dai social. Belen Rodriguez ha descritto Stefano De Martino come «molto birichino» e «un furbacchione», ma ha anche scherzato sul fatto che «le ossa gliele ho spezzate più di una volta». Nonostante ciò la sciogherla ha affermato di credere nell'amore senza chiedere nulla in cambio, e ha espresso il suo pensiero sulla monogamia, suggerendo che a volte potrebbe essere necessaria una pausa. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano essere felicemente riuniti insieme ai loro figli Santiago e Luna Marie, la figlia di Belen Rodriguez nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. Sebbene ci sia stato qualche rumor sulla loro presunta separazione, una recente foto sui social ha smentito tali voci, mostrando la loro vicinanza. Voi cosa ne pensate? Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere tutti gli altri video.